Quest'anno le feste durante il tempo di Natale si sono un po' rincorse, quasi sovrapposte. L'ultima che abbiamo celebrato è effettivamente il 6 di gennaio la festa della Epifania del Signore ed era di sabato e il giorno dopo la festa del Battesimo di Gesù. Qualcuno ha notato che il giorno prima avevamo davanti un bambino, il bambino nato a Betlemme appunto e il giorno dopo ci siamo trovati con un uomo di 30 anni che andava al fiume Giordano a farsi battezzare. Qualcuno dice ma cosa deve avere mangiato Gesù per essere cresciuto così in fretta da bambino diventato adulto. Don Riccardo qualcuno si chiede un momentino come è questa storia che il giorno prima è piccolo e il giorno dopo è grande oppure c'è qualche spiegazione legata al modo di raccontare appunto degli evangelisti soprattutto del Vangelo di Marco come quest'anno noi stiamo seguendolo nell'anno liturgico. Ma guarda domenica scorsa io alla mia gente ho detto sì è vero che abbiamo fatto un salto di 30 anni in una notte perché appunto però dicevo quando noi ricordiamo magari qualche persona importante della nostra famiglia che non c'è più facciamo l'esempio ricordiamo i nonni allora magari i nipoti si possono ripercorrere tutta la cronologia dei nonni da quando sono nati a quando sono morti però magari non lo sai neanche tutto e invece è interessante che magari ti ricordi quella volta e magari tu metti in evidenza un aspetto particolare del carattere del nonno della nonna e poi per associazione ecco che ricordi altri momenti legati un pochino alla stessa tematica ecco mi piace che dobbiamo pensare un po' così allora questi passaggi no? Quindi nel tempo di Natale abbiamo contemplato la manifestazione del Signore che si manifesta a Maria Giuseppe poi ai pastori poi ai magi che rappresentano un pochino la dimensione anche globale del mondo e poi il battesimo di Gesù Dio Padre che si compiace che si riconosce nella scelta che il figlio sta facendo quindi potremmo dire che la manifestazione diventa piena da questo punto di vista è molto sensato anche questo piccolo salto che magari è anche un po' un grande salto temporale Certo che forse dobbiamo chiarire anche un pochettino qual è lo spirito dei Vangeli perché noi troviamo Matteo e Luca che dedicano qualche pagina anche al tempo come viene chiamato dell'infanzia di Gesù Vangelo di Marco, Giovanni anche, non si dedica a queste pagine e partono subito appunto a presentare Gesù quando inizia la sua missione pubblica probabilmente dobbiamo anche chiarire che i Vangeli non sono necessariamente una biografia che ripercorre la vita di Gesù di anno in anno ma hanno un altro intentimento per cui questo forse chiarisce anche un po' il fatto di alcune scelte anche diversificate di alcuni evangelisti e anche il fatto appunto che agli evangelisti non interessa tutto quello per esempio che Gesù ha fatto nella bottega di Giuseppe o nella casa appunto di Nazareth ma interessa soltanto quello che riguarda poi anche un annuncio di salvezza che Gesù Cristo è venuto a portare ma certo ecco non dobbiamo mai dimenticare come penso è stato sottolineato già diverse volte anche in questa nostra piccola trasmissione come appunto i Vangeli più che una biografia di Gesù perché se no appunto lascerebbe desiderare perché rimane un po' silenziosa in tanti momenti in tanti anni della vita di Gesù a parte queste rapide pennellate che Luca e Matteo ci fanno un pochino sull'infanzia dobbiamo pensare come il Vangelo sia un testo scritto da una persona, da una comunità perché alla fine dietro comunque la persona dell'evangelista ci sta una comunità che racconta la sua esperienza di fede e ricorda anche gesti, parole, momenti della vita di Gesù ma nell'ottica dell'esperienza di fede che tu fai adesso quindi della certezza che Gesù è risorto, che Gesù lo incontri vivo che non è che devi tenere solo la memoria di qualche grande momento, qualche grande discorso di Gesù del passato ma è necessario invece recuperare questo ma perché nel tuo presente tu possa fare un'esperienza di fede e lasciarti incontrare dal Signore che è vivo Ecco andiamo un pochettino al Giordano, ripercorriamo un attimo quello che abbiamo celebrato perché mi sembra molto significativo e soprattutto entra dentro un po' anche qualcosa che riguarda ovviamente anche il nostro cammino di fede Intanto fa impressione quel Gesù che si mette in fila al fiume Giordano insieme con tutti gli altri Noi evidentiamo il fatto che il battesimo di Giovanni appunto non è il nostro battesimo sacramentale che il gesto appunto compiuto da Giovanni era in vista di una chiamata alla conversione al rendersi conto di quello che stava accadendo Ma anche il fatto che Gesù si inserisce in questo contesto e si mette in fila con queste persone che vanno a farsi battezzare Che significato può avere in effetti questo? Oppure il modo più vero per aiutarci a capire che cosa significa il Natale di Gesù cioè il fatto che un Dio si è fatto uomo? Hai già detto tutto e hai detto bene, non potrebbe che essere così Allora il battesimo di Gesù ci ricorda proprio la scelta che Gesù fa iniziando la sua vita pubblica di non salvare l'umanità con un atto esterno Ecco noi potremmo pensare che magari Dio dice a questa umanità come è caduta in basso C'ha, scendo, li tiro su perché ormai questi qui si sono perduti quindi io con un mio atto esterno dalla mia grandezza alla mia onnipotenza li salvo E invece facendosi uomo Gesù vuole dire in maniera diversa questo risollevarsi dall'umanità Non vuole farlo con un atto esterno che parte da Dio ma vuole partire dal fondo dall'umanità e ricordiamoci sempre che nel Natale noi abbiamo celebrato la festa di Gesù che si fa veramente uomo Perché a noi tante volte mi sembra che anche nel nostro modo di pensare sì certo che Dio sia fatto veramente uomo ma ci mancherebbe però alla fine andiamo a pensare come se Gesù per 33 anni ha indossato la maschera di uomo per farsi conoscere un po' di più ma alla fine rimaneva ancora Dio con tutte le sue prerogative ecco perché ha fatto i miracoli, ecco perché ha fatto cose straordinarie ha fatto cose grandiose perché alla fine era comunque Dio un po' travestito da uomo No, Gesù si fa radicalmente, veramente uomo con tutti anche i limiti e le contraddizioni che l'essere uomo porta dentro di sé quindi in questo entrare con questa teoria di ebrei che andavano a farsi battezzare da Giovanni Battista cedendo proprio il fatto che Gesù vuole scendere in basso per risollevare lui l'umanità dal basso, da quel basso che ha accettato, che ha accolto con amore non facendo finta appunto di essere uno degli altri ma con caratteristiche superiori ma amando perché l'amore del Signore è proprio quell'amore che ti svuota un po' di tutto quello che tu hai per mettere al centro l'altro e gli altri Dentro il passaggio appunto del battesimo di Gesù al Giordano anche questa presenza dello Spirito in forma di colomba come si dice e qui ci sono richiami ancora anche biblici se vogliamo ma questo Spirito che era presente agli inizi della creazione quando si dice che lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque in quel caos iniziale per tirar fuori un mondo ordinato eccetera ecco che questo Spirito si ripresenta diremmo noi in Gesù battezzato quasi a dire che c'è un capitolo nuovo della storia è interessante questo fatto perché ci qualifica un pochettino il fatto che la presenza di Gesù dentro la storia questo figlio di Dio fatto uomo dice che c'è una svolta dentro questo cammino della storia che era andato un po' di traverso e che il Signore viene appunto ancora a riordinare per un certo verso Certo, bella questa idea, questo richiamare lo Spirito degli inizi lo Spirito che scende su di lui sotto forma di colomba è la voce di Dio padre che si riconosce nel figlio che chiama l'amato e davvero sembra proprio una sottolineatura quasi di una nuova creazione una nuova creazione dove appunto l'uomo può recuperare quella immagine quella somiglianza con Dio che aveva perduto in maniera irrimediabile proprio perché Gesù fa vedere che si può vivere anche in maniera diversa rispetto a come gli uomini hanno sempre vissuto confidando in Dio, amando gli altri, mettendo la salvezza degli altri al primo posto Certo Don Leone, mi viene sempre da dire, lo dicevo anche alla mia gente domenica ma lo dico a me innanzitutto pensa quante volte noi preti parliamo, anche il giorno del battesimo di Gesù la salvezza, il Signore che ci dona la salvezza ma la domanda che dobbiamo farci è questa noi ci sentiamo poi bisognosi di salvezza o ci illudiamo di poterci salvare da soli? E quindi alla fine sì, c'è anche il Signore che ci dice tante cose belle ma non è niente di più che un po' qualche buona norma di Galateo per comportarci in maniera un po' discreta con gli altri ma la proposta cristiana è molto di più Tra l'altro ora spente le luminarie del tempo natalizio inscatolati se vogliamo i presepi per poterli poi riprendere in mano tra un anno la cometa appunto che si è allontanata mi viene qua un pochettino da pensare che dovremmo un po' aggrapparci almeno alla coda di questa cometa per sentirci appunto partecipi di questa storia che abbiamo celebrato e che è iniziata in modo nuovo con la venuta del Figlio di Dio tra di noi Tra l'altro si dice a proposito dei magi che dopo aver presentato i loro doni aver fatto il gesto dell'adorazione se ne tornarono al loro paese per un'altra strada Allora la domanda un pochettino che è inevitabile che ci facciamo celebrato il Natale si apre una strada diversa anche per noi entriamo nella quotidianità passando attraverso un sentiero nuovo oppure praticamente torna tutto come prima e la storia è sempre quella che si ripete e quella luce del Signore in fondo si è spenta insieme con le luminarie del tempo natalizio E questa risposta Don Leone mi sa che ciascuno deve rispondere nel profondo di quello che è certo il rischio di rimanere alla superficie c'è per tutti penso che c'è anche per noi preti non solo così per i battezzati che non sono preti il rischio di fare un po' una certa abitudine anche alle celebrazioni belle con tutte le loro cornici ma che alla fine non vanno poi a incidere poi in profondità in quello che siamo nella nostra verità il rischio c'è però che bello anche questa idea che appunto viene detta da Matteo in questo modo così bello i magi che tornano per altra strada tornano le loro cose, tornano i loro studi però cambiati da questa esperienza a me impressiona sempre riferimento ai magi che appunto tutto il loro traffico tutto il cammino che fanno arrivano finalmente è nato un re e vanno a cercarlo a Gerusalemme e non sanno niente allora vanno nella reggia e la stella sparisce poi vengono mandati a Betlemme perché i saggi del Tempio sono capaci di dire con una precisione incredibile dove sarebbe nato il Messia ma loro non si muovono i magi ripartono, prendono il cammino rivedono la stella entrano, vedono il bambino in braccio a sua madre in quella casa di Betlemme probabilmente non erano più nella stalla o nella grotta o dove erano avevano trovato qualche alloggio un pochino migliore e mi verrebbe da dire non potevano i magi dire tutto questo traffico per vedere che cosa un bambino in braccio a sua mamma vuol dire che hanno fatto comunque un cammino interiore nonostante si sono spostati anche geograficamente che permette loro di vedere oltre le apparenze e quindi poi di offrire i loro doni e di tornare alle loro cose per altra strada perché questo incontro li ha un po' cambiati che bello sarebbe se di anno in anno magari un passettino alla volta o magari un anno non fai nessun passettino ma ne fai due l'anno successivo anche noi diventassimo un pochino più esperti delle cose del Signore tra l'altro allora entriamo e mi pare che la cosa ci saldi bene nel Vangelo che ascoltiamo in questa domenica dove si parla appunto di Gesù che nel suo camminare lungo le strade della Galilea vede che ci sono alcune persone che lo stanno seguendo e si volta e dice ecco la cercate e quelli dicono ma tu dove abiti qual è la tua strada qual è il tuo modo di vivere eccetera e Gesù che dice venite e vedrete ecco mi pare che qui entri dentro proprio quella chiamata avendo conosciuto il Cristo che si è fatto uomo a imparare a mettersi al suo seguito quella domanda che cosa o chi cercate ecco Don Riccardo viene un po' da pensare c'è un desiderio ancora dentro il cuore dell'uomo la nostra umanità ha ancora questo senso della ricerca e dietro a questo Gesù Cristo andare un pochettino a chiedere ma come la vedi tu la storia come pensi la vita e sentirsi dire appunto venite e vedrete e quindi andare un pochettino e stare con questo Gesù Cristo per apprendere appunto quello che Lui è venuto a donarci per dare senso alla nostra vita ma così di modo in questi nostri tempi parlare di esperienza ecco il Signore non ci offre la teoria maestro dove abiti o come l'hanno tradotto adesso maestro dove dimori Gesù non si mette a dire guarda abito qui sto di qua faccio così la giornata mia è scandita in questo modo ma Gesù dice venite e vedrete quindi non serve che ci mettiamo a parlare della teoria il Signore offre un'esperienza di condivisione di amore, di vicinanza, di prossimità di condivisione davvero con questi qua che sono chiamati e questo è straordinario perché a noi che tante volte abbiamo una visione chissà forse perché siamo figli o nipoti ancora dell'illuminismo troppo teorica anche della fede la fede è avere in testa tante cose avere delle verità in testa riconoscere ma certo che c'è anche quello ma ci mancherebbe però la fede innanzitutto è un cammino è un cammino da condividere è un'esperienza un'esperienza di vita un'esperienza di vicinanza di prossimità con il Signore e allora forse l'invito è proprio quello a uscire un po' anche a noi dalla teoria del sapere tutto del conoscere tutto del sapere magari spaccare una parola della scrittura in quattro riconoscendo tutti i significati al dire ecco ma questo alla fine mi deve portare poi a sentire che il Signore è vivo è presente quello che dicevamo un po' all'inizio che ci sta anche alla base della formazione dei Vangeli altrimenti tutto rischia di scivolare via ancora come una cosa teorica che viene portata via da tutta la fatica anche del divenire l'altro è interessante perché in questo incontro di Gesù con questi che saranno poi alcuni dei suoi apostoli dei suoi discepoli l'Evangelista si sofferma e sappiamo che Marco ha questo tocco anche di cose che appaiono secondarie ma che invece lui mette in evidenza e dice erano circa le quattro del pomeriggio è interessante questa nota da orologio però la dice lunga sul fatto di che importanza ha avuto quell'incontro per gli apostoli tant'è che hanno voluto ricordare addirittura il momento preciso in cui si è realizzato come dire veramente un suono di orologio da campana quasi da campanile che ha un po' risvegliato in loro il desiderio di un cammino di una ricerca ma che ha segnato la loro vita per sempre erano circa le quattro del pomeriggio verrebbe un po' da chiedersi Don Riccardo c'è qualcosa di simile anche nel cammino della nostra vita o della vita di tutti qualche momento qualche particolare qualche incontro qualche persona qualche accadimento che abbiamo segnato fortemente perché ha segnato la nostra vita è bello è vero questa sottolineatura noi della nostra vita della nostra storia ricordiamo con precisione davvero l'orario il luogo dei momenti magari non quelli che hai preparato ma che ti sono capitati nella vita ma che ha creato una svolta alla tua vita non lo so mi viene da dire una persona che ha incontrato per la prima volta l'uomo o la donna della sua vita come fai a non ricordarti quel momento lì quell'incontro quello sguardo e ti ricordi bene il luogo con precisione l'orario che tempo c'era come rivestito perché effettivamente sono magari degli eventi non preparati nella tua vita ma che hanno poi dato una svolta all'esistenza quindi questa sottolineatura vuol dire che quei due discepoli si ricordavano bene che questo incontro anche se lì per lì poteva sembrare un po' anche scucito perché che cercate e questi la prendono un po' larga dove abiti non ti sto dicendo cosa sto cercando e il Signore che accoglie questa domanda e fa una proposta di condivisione è qualche cosa di straordinario forse lì i due discepoli si sono visti anche rispettati un po' in quella che era anche la loro fatica di chiamare per nome quello che veramente cercavano però il Signore li ha accompagnati e gli ha permesso di condividere tutto speriamo che possa capitare così anche nella nostra vita il Papa andando a chiudere anche lui il tempo liturgico del Natale ha tirato fuori quell'espressione lui ha questi diciamo slogan anche che però hanno la loro valenza dice è tempo di avere sguardo al cielo di avere piedi sulla terra di avere cuore di adorazione ecco direi che forse qualifica proprio il nostro andare di uomini e di donne di questo nostro tempo e di credenti o di cercatori di verità questo stile che qualifica appunto queste tre modalità che probabilmente devono comporsi se vogliamo che la nostra vita appunto si componga bene e abiti bene anche la nostra storia piace sempre anche a me immaginare che appunto lo sguardo in alto che dobbiamo avere verso le cose del Signore non è uno sguardo proprio così che alla fine non ti permette di vedere che tu stai camminando in terra ma uno sguardo che all'orizzonte si innalza quindi tutti lì ben presente anche la terra sei consapevole di dove sei di quello che fai dei problemi delle esigenze del tuo tempo non è che stai lì a vagheggiare le cose del Signore e basta perché sei ancora con i piedi per terra però uno sguardo che all'orizzonte è capace di vedere anche l'accadere delle cose di Dio nel nostro tempo e poi appunto il cuore che adora adorare vuol dire la parola stessa dice no portare alla bocca non per mangiare ma per venerare per baciare per dire la vicinanza per dire l'amore che bello allora che anche il nostro legame con il Signore sia fatto comunque di questa riconoscenza di questa dimensione se vogliamo anche affettiva senza diventare per carità degli sbrodolosi di sentimenti che non fa parte neanche tanto del nostro DNA di Bergamaschi però appunto sapendo che c'è anche questa dimensione che non sarà primaria ma non è neppure l'ultima insomma dell'aspetto di fede erano le quattro del pomeriggio andarono con Gesù e quel giorno stettero con lui ecco credo che sia un bel chiudersi anche per noi di questo tempo e aprirsi anche di un tempo che ci sta davanti stare un po' col Signore quello che poi Gesù ogni tanto continuerà a dire ai suoi apostoli i Vangeli qua e là lo ricordano venite un po' in disparte e riposatevi con me ecco probabilmente nel trambusto della nostra vita il senso della fede ci abilita ad abitare un po' di tempo col Signore per poter con Lui poi abitare bene tutto il nostro tempo con quanto lo compone dei nostri impegni delle nostre responsabilità del nostro servizio quotidiano è l'augurio che vogliamo un po' scambiarci e il grazie ancora e come sempre perché ci avete seguito con l'augurio sempre anche di una buona domenica di una buona domenica